Musica Vi presento un'altra artista che porta le sue nove opere nella mostra Tamara Art Award, si tratta di Karim Monshauer, artista luxemburghese che conoscete ormai dalle diverse pubblicazioni e da diverse opere che sono state premiate. Questo anno, annuario della Mondadori CAM, ha pubblicato nelle prime pagine l'opera che trovate sulla mia destra, che rappresenta Campo Fiorito. La caratteristica delle opere di Karim Monshauer consiste nel unire di due sue passioni della vita, la prima arte per ricamo e la seconda la matematica, che traduce nelle figure geometriche che tengono a scrutare infinito. La caratteristica delle opere di Karim Monshauer